Io veramente devo ringraziare Dio perché di volta in volta abbiamo sempre delle dirette più interessanti e più importanti per approfondire degli argomenti veramente basilari per questo momento storico, culturale in cui stiamo vivendo. Quindi oggi veramente ho l'onore di fare questa diretta con Magdalena Cristiana Lan che è giornalista, scrittore politico italiano di origine egiziana, musulmano, convertito al cristianesimo e per questo atto vive sotto scorta. Innanzitutto ringrazio io te Angela, ringrazio il popolo della famiglia che mi offre questa opportunità e partecipo volentieri a questa intervista, a questo confronto e sono certo che sarà il primo passo di un cammino che faremo insieme nella condivisione di idee, di valori e di ideali. Guarda, già questo tuo esternare, questa volontà di questo primo passo so per certo che non solo riempie di gioia il mio cuore ma sta già riempiendo di cuore centinaia di migliaia di amici che ci seguono. Però in questo primo incontro, perché poi spero, mi auguro che ne seguiranno anche tanti altri, come primo momento, perché poi questo sarà un'intervista lunga, quindi prepariamoci amici, mettetevi covoli perché avremo tanti argomenti da affrontare, però voglio iniziare perché tu hai già scritto tanti libri, ma questo è un libro per eccellenza dal mio punto di vista ed è anche una novità per te, immagino, poi ce lo direi meglio, hai scritto questo libro Magdi Cristiano Allah, Mahometto e il suo Allah, che è uscito praticamente da pochissimi giorni. Ci vuoi, caro Magdi, dire i motivi per cui hai pensato di scrivere questo libro e cosa vuoi trasmettere a noi che lo leggeremo con questo tuo scritto? Sono stato musulmano per 56 anni e ad un certo momento, prendendo atto della incompatibilità tra una fede interiore che io ho sempre coltivato e che si sostanzia di quei valori definiti correttamente non negoziabili da Benedetto XVI, che sono la sacralità della vita, la pari dignità tra le persone, la libertà di scelta, a partire dalla libertà di scelta religiosa, ho ritenuto di prendere le distanze dall'Islam e facendolo ho preso atto che la maggioranza dei musulmani, me compreso, non solo non conosce correttamente ciò che Allah prescrive nel Corano, ma soprattutto non conosce nulla di Mahometto. Mahometto è il vero buco nero nella realtà dell'Islam e così ho deciso di approfondire la conoscenza di Mahometto e facendolo ho verificato che questo personaggio, che è fondamentale perché è lui il fondatore dell'Islam, è del tutto incompatibile con i valori che sostanziano la nostra umanità. Ho voluto scrivere questo libro dal titolo Mahometto e il suo Allah per raccontare la vita di Mahometto. Il vero autore di questo libro non è Magdi Cristiano Allah ma è Mahometto perché è un libro che contiene le frasi testuali dette da Mahometto, è un racconto, sembra quasi di leggere un romanzo perché ci sono tantissime frasi virgolettate che sono le frasi dette da Mahometto. Per questo invito tutti quanti a leggerlo perché solo leggendo la realtà di Mahometto potremo toccare con mano quella che è la specificità dell'Islam, la sua differenza sostanziale rispetto al cristianesimo e capiremo perché da 1400 anni l'Islam è fisiologicamente e intrinsecamente violento ed è storicamente conflittuale. Ecco, ma io penso proprio che questo tuo libro, caro Mahdi, sia arrivato al momento giusto in questa Europa che sta tradendo le proprie radici cristiane e in questa Europa confusa che fa dell'accoglienza un po' il suo vessillo di battaglia, questa accoglienza che dal mio punto di vista deve essere comunque compresa, deve essere comunque capita e un'accoglienza comunque non deve essere univoca ma deve essere reciproca e quindi penso veramente che questo tuo libro potrà aiutare noi occidentali a fargli quell'accoglienza, quella vera integrazione, a pretendere anche in certi casi una vera integrazione e in questa diretta capiremo e approfondiremo meglio il concetto. Vuoi ancora dirci qualcosa altro in merito al tuo libro o posso iniziare con le domande? Dimmi tu. Ma allora, sicuramente il libro serve anche a comprendere l'attualità, il tema della cosiddetta accoglienza ed è un libro che ci fa comprendere la difficoltà che c'è nel rapporto con quei musulmani che ottemperano letteralmente e integralmente a ciò che Allah prescrive nel Corano e soprattutto a ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Vorrei subito precisare che io ho sempre distinto e sempre distinguerò tra la dimensione della persona e la dimensione delle idee, delle ideologie, delle religioni e dico che le persone vanno sempre rispettate a prescindere da ogni condizione, a prescindere anche dalla loro fede perché siamo tutti depositari di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. Ma il problema vero è che noi siamo in un'Europa che considera legittimo dire di tutto e di più nei confronti del cristianesimo, della Chiesa, del Papa, di Gesù Cristo, ma si è autoimposta di sospendere l'uso della ragione per non entrare nel merito dei contenuti dell'Islam ed è l'unica eccezione che viene fatta perché abbiamo paura di criticare il Corano, Maometto, Allah e l'Islam in generale. Ecco perché conoscere Maometto, leggendo la vita di Maometto, ci consentirà di poter affermare la verità salvaguardando la nostra libertà. Certo, la nostra libertà, le nostre radici, il futuro dei nostri figli insomma, perché noi dobbiamo amare l'altro ma non possiamo amare l'altro più di noi, quindi per amare noi dobbiamo amare le nostre radici e i nostri figli, il nostro futuro per poter in questo modo includere l'altro nella maniera più corretta possibile. Comunque caro Magli, guarda, sfogli una porta aperta perché hai appena detto io non giudico la persona ma giudico quello che avviene esattamente come tutti i miei ospiti fanno questo, la dottoressa Silvana De Mari che anche lei poverina è stata molto attaccata, lei non parla mai di omofilia accusando la persona che vive quella sua sfera ma si parla della situazione che si crea con quell'azione e la stessa cosa facciamo noi attivisti del popolo della famiglia, quando noi difendiamo dei valori che sono legati alla famiglia piuttosto che alla vita o piuttosto di quelle ideologie di genere che vorrebbero prepotentemente introdurre nelle nostre scuole, ecco noi non ci rivolgiamo mai contro le persone ma stiamo analizzando il problema, quindi guarda ci troviamo veramente in linea. Però voglio anche farti un'altra domanda, proprio per questo Islam che è diventato così una prepotente presenza diciamo nel nostro territorio a cui non eravamo molto abituati, c'è una connessione secondo te con tutto questo iniziato con la primavera araba ecco dal mio punto di vista e poi tra l'altro io faccio a te queste domande perché secondo me sei il massimo esponente mondiale che veramente lecitamente può parlare di Islam in territorio occidentale perché tu nella verità hai proprio fatto quel passaggio maturo di analisi e quindi nessuno più di te può parlare di Islam perché tu hai vissuto l'Islam e nessuno più di te può spiegare a noi questo Islam nei nostri territori occidentali perché tu vivi il nostro occidente ecco. Ci vuoi quindi dire la primavera araba quanto ha contribuito alla situazione attuale? Ma è stata sicuramente una tappa fondamentale nello sconvolgimento degli assetti in Medio Oriente. Io già nel 2005 denunciai il fatto che gli Stati Uniti prendendo atto della questa incapacità a eliminare Osama Bin Laden a sconfiggere Al Qaeda e del risultato fino a quel momento infruttuoso delle guerre scatenate prima in Afghanistan e poi in Iraq offrirono ai fratelli musulmani. I fratelli musulmani sono un movimento estremista islamico che nasce in Egitto nel 1928 e che al pari di Al Qaeda o al pari dell'Isis odierno vuole islamizzare l'intera umanità ma lo fa in un modo più suddolo, più scaltro partendo dal basso attraverso il controllo del territorio, attraverso la proliferazione delle moschee e controllando le cosiddette comunità islamiche. Offrirono ai fratelli musulmani un patto. Voi ci aiutate a far fuori Al Qaeda, a eliminare Bin Laden e noi vi legittimiamo politicamente, vi consentiamo di accedere al potere. Già nel gennaio del 2006 i fratelli musulmani sia in Egitto sia nei territori palestinesi dove si chiamano Hamas parteciparono alle elezioni e nei territori palestinesi le vinsero e elessero il capo del governo. In Egitto entrarono per la prima volta a far parte del Parlamento egiziano con 88 deputati. Quello è stato l'inizio di un processo di forte accelerata nella islamizzazione della regione che a partire dal 2011 con le cosiddette primavere arabe ha avuto un momento di massima manifestazione di questa strategia. In Egitto sono riusciti a prendere il potere con Mohamed Morsi che è esponente dei fratelli musulmani che è governato per un anno tra il 2012 e il 2013. In Tunisia erano ad un passo dal prendere il potere con Annada e in Libia Ida, poi lì si è diviso tutto il territorio e in Siria gli Stati Uniti, l'Unione Europea, paesi islamici, innanzitutto la Turchia di Erdogan, l'Arabia Saudita, il Qatar hanno sostenuto i fratelli musulmani, un'aggregazione di forze estremiste islamiche e un piccolo gruppo di laici che però era totalmente ininfluente. Il risultato è che laddove c'erano dei regimi laici al potere e che pur nella loro ferocia in quanto dittature laiche, che noi non condividiamo, però stabilizzavano la regione, impedivano al terrorismo islamico di andare in Europa, di trasferirsi in Europa. Crollata questa realtà noi oggi scopriamo che c'è un terrorismo islamico in Europa che ormai si è talmente radicato che è diventato autottono ed endogeno, cioè chi perpetra le ferate stragi islamiche in Europa ormai sono cittadini europei di fede musulmana che all'interno dell'Europa massacrano altri cittadini europei da loro condannati indiscriminatamente come miscredenti, come nemici dell'islamico. Certo, ma questa anestesia europea, come dicevi tu, questo silenzio, ma anzi addirittura questa mormorazione di questa accoglienza falsa e tendenziosa a questo punto mi domando. Come mai il popolo europeo è rimasto anestetizzato di fronte a questi eventi, gravi eventi, perché ne va proprio della nostra natura, della nostra radice, quindi come fa un popolo ad accettare così passivamente un abuso tale del proprio territorio, annullando di fatto tutti i secoli precedenti di una costruzione proficua. Cosa ci dici? Gli europei hanno subito il condizionamento di forze che parallelamente hanno esercitato un forte condizionamento. Il multiculturalismo che è l'ideologia vigente nel regolare il rapporto in Europa con persone che provengono da altri paesi, che hanno altre culture, altre religioni, il multiculturalismo sostanzialmente ha elargito a piene mani diritti e libertà senza chiedere in cambio l'ottemperanza dei doveri, il rispetto delle regole, attribuendo alle persone che provengono da uno stesso paese o che condividono la stessa fede la prerogativa di autoamministrarsi sulla base di proprie regole o addirittura sulla base di proprie leggi. Il risultato è stato lo scardinamento sia fisico del territorio, delle città, quindi con quartieri a connotazione etnico-confessionale, sia anche il venir meno di quella che è l'identità di una nazione. L'aspetto demografico al riguardo è fondamentale. L'Europa è l'area del mondo che in assoluto ha più basso tasso di natalità. I musulmani hanno un più alto tasso di natalità. Oggi, in aggiunta, siamo noi stessi che stiamo promuovendo una autoinvasione e chi arriva sono prevalentemente islamici, quindi c'è anche il condizionamento demografico perché loro sono giovani. Le popolazioni europee sono sempre più anziane, sono quindi più fragili, più svantaggiate. Abbiamo un cagnolino ma è dolcissimo. Il risultato è che gli europei si stanno assuefando un po' alla volta. È come se fossero stati blindati all'interno di una stanza sigillata al cui interno si fa trapelare un po' alla volta del gas letale che non uccide subito perché viene inalato in piccole dosi. Il nostro corpo un po' alla volta si abitua. Non ci rendiamo conto che stiamo morendo e finiremo per morire con il sorriso sulle labbra non rendendoci conto della mutuazione profonda e sconvolgente che stiamo vivendo. Per usare dei parallelismi un po' come la rana bollita che viene messa nell'acqua fredda che gradualmente diventa calda e poi muore. Oppure parliamo della propria finestra di Overton che gradualmente ci abitua ad accettare cose inaccettabili e farle diventare consuetudine. Comunque tornando alla nostra cara e amata Europa che purtroppo è gestita da folli, permettimi la parola un po' forte, cosa ne pensi della Setton, Macron e Merkel che alla fine decidono loro e l'influenza che l'Italia che influenza non ha può avere in base a queste decisioni, ma soprattutto questo assetto Merkel-Macron quando la Merkel giusto ieri ha detto che ipocritamente perché poi di fatto non è vero, però lei ha così ufficializzato che non metterà mai un tetto limite agli immigrati, quindi la Merkel, mentre Macron dice no agli immigrati. Quindi che assetto si può raggiungere in questa Europa così svarionata, questo è un altro termine non molto televisivo diciamo, ma è giusto per far capire il concetto. Ma a quei livelli nulla accade per caso. Siamo in un mondo in cui il vero potere forte è la grande finanza speculativa globalizzata. Quando nella notte tra il 14 e il 15 settembre del 2008 ci fu il tracollo della banca d'affari americana Lehman Brothers, si scoprì che in parallelo al binario delle borse delle banche regolamentate c'è un ammontare di denaro virtuale, frutto della speculazione del denaro su denaro, che era stimato in 787 mila miliardi di dollari. Sono 12 volte il PIL mondiale. Chi gestisce questo ammontare di denaro virtuale oggi è quello che governa i paesi del mondo, che è in grado di mettere al governo delle persone che rispondono a questo potere forte perché ha la necessità di controllare le economie per poter commutare, per poter riciclare questo denaro virtuale e tradurlo in beni e servizi reali prodotti dall'economia reale. Noi in Italia questo passaggio l'abbiamo avuto nel novembre del 2011 quando Giorgio Napolitano, che è stato il grande burattinaio della finanza speculativa globalizzata, ci impose dall'alto Mario Monti. In Francia oggi il Mario Monti francese si chiama Emmanuel Macron, ma Merkel da sempre è la persona di massima fiducia della grande finanza mondiale. Quindi noi siamo assoggettati a questo potere forte che vuole a livello demografico promuovere una umanità omogeneizzata, omologata all'insegna del meticciato, abbattendo gli stati nazionali, abbattendo le identità nazionali e localistiche e facendo sì che sostanzialmente ciascuno di noi sia ridotto a semplice strumento di produzione e di consumo della materialità. Quindi dal loro punto di vista che in Italia nel 2050 continuerà ad esserci una maggioranza di cittadini italiani o ci sarà invece una presenza sempre più cospicua di cinesi e di islamici non fa nessuna differenza. L'importante è che si sia strumento di produzione e di consumo della materialità. Ecco perché anziché investire nell'aiutare le famiglie italiane, nell'aiutare le madri italiane, nell'aiutare i giovani italiani affinché attraverso la stabilità lavorativa possano ergersi a rigeneratori di vita, mettere al mondo i propri figli, investono per spalancare incondizionatamente e illimitatamente le frontiere, per portare dei giovanotti di cui non sappiamo neppure chi siano in realtà, perché sono lo strumento umano non solo di una autoinvasione ma soprattutto della sostituzione etnica della nostra società ed è quello che porrà fine, che condannerà a morte la nostra civiltà che è laica e liberale dalle radici ebraico-cristiane. Guarda, se un nome è una garanzia, diciamo Angela Merkel ha tragicamente guidato un po' le sorti dell'Europa. Io mi chiamo Angela Ciconte, Angela, Angela, faccio parte del popolo della famiglia, questo nuovo movimento che veramente vuole cambiare il pensiero politico perché vuole mettere al centro il soggetto, l'uomo e quindi mettendo al centro il soggetto noi non vogliamo arrivare a questa distruzione, a questo cambio epocale di cose, ma vogliamo fare quella barriera. Quindi io, Angela Ciconte, con il nostro movimento ci impegneremo con tutte le nostre forze in prima persona mettendoci non solo la faccia ma tutta l'energia a difesa di tutto quello che è la nostra cultura, il nostro futuro, ma per il bene dei nostri figli. Quindi a questo punto voglio proprio farti una domanda. Cosa ne pensi tu del popolo della famiglia? Ma io condivido totalmente l'iniziativa di promuovere in seno all'ambito politico il tema della centralità della famiglia naturale come cardine della costruzione e della rigenerazione della società. Quindi il sostegno alla famiglia naturale, sostegno alle madri, sostegno ai giovani. Sono totalmente al fianco del popolo, della famiglia. Ritengo che insieme faremo un percorso importante in un contesto dove io ritengo di poter dare un contributo prevalentemente culturale per aggregare tutti quegli italiani che oggi convergono su delle idee, su dei valori, su una prospettiva, perché noi siamo esattamente di fronte allo stesso Bibio in cui si trovò l'impero romano nella fase della sua decadenza. Noi oggi registriamo, così come accadde l'impero romano, il tracollo demografico perché si fanno sempre meno figli, registriamo il venir meno della certezza dei valori e delle regole, la diffusione della dissolutezza sul piano dei costumi, registriamo l'errore madornale di ritenere che per colmare il deficit demografico si debbano spalancare le frontiere allo straniero, così come registriamo una crisi economica che è strutturalmente grave. Purtroppo l'impero romano si è dissolto. Oggi con il senno del poi possiamo dire che tutto sommato a noi ci è andata bene perché quando guardiamo all'indietro nella storia, all'impero romano, seguito dal cristianesimo, ma i nostri figli e i nostri nipoti non potranno dire la stessa cosa perché a questa Europa seguirà l'Islam e l'Islam non è la stessa cosa del cristianesimo. Ci sono già oggi quattro capitali europee che sono Londra, che è in assoluto la più popolosa con otto milioni di abitanti, Bruxelles che è la capitale dell'Unione Europea perché ospita le sedi delle tre istituzioni dell'Unione Europea, Amsterdam la capitale dell'Olanda e Oslo la capitale della Norvegia. In queste quattro capitali europee tra i nuovi nati il nome in assoluto più diffuso è Mohamed, Mahometto. Cioè chi nasce oggi a Londra, a Bruxelles, ad Amsterdam e Oslo sono prevalentemente musulmani. Noi stiamo oggi assistendo e subendo ad una rapida islamizzazione demografica dell'Europa. Ecco perché ben venga l'iniziativa del popolo, della famiglia e io mi auguro l'iniziativa del maggior numero possibile di italiani che si rimbottino le maniche, che decidono di metterci la faccia perché dobbiamo passare dalla denuncia alla proposta e dalle parole ai fatti. Guarda, a proposito di questo, il mio spazio si chiama il Tempo della Regina della Pace, legione San Michele Arcangelo. Perché questo, il Tempo della Regina della Pace? Perché Maria sta scendendo viva a Mediugori dal 1981 e lei è comunque, sta scendendo proprio all'ultimo avamposto tra il mondo occidentale e il mondo musulmano. Quindi già questo mi fa riflettere. Ma non solo. Maria ha detto che completerà a Mediugori ciò che è iniziato a Fatima. A Fatima ci ha parlato del trionfo del suo cuore immacolato. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che questo suo trionfo avvenga a difesa di questo mondo occidentale e quindi di questa Europa cristiana che in questo momento ha dimenticato le sue radici. Che questi cristiani che fanno fatica ad andare a messa una volta sola alla settimana, se poi dovessero sottomettersi alle regole dell'Islam. Ragazzi miei, andate a messa, pregate! E proprio in virtù di quello il mio spazio si chiama il Tempo della Regina della Pace, legione San Michele Arcangelo, abbiamo bisogno proprio della difesa anche di San Michele Arcangelo. Ti propongo di dire insieme un Ave Maria per due motivi. Il nostro movimento è stato consacrato alla Madonna. E in più il nostro programma nazionale è basato sul compendio sociale della dottrina cattolica. Quindi se mi vuoi accompagnare in questa preghiera per noi, per i nostri amici che ci seguono e per tutto quello che dovremmo fare per mantenere vive le nostre radici. Allora grazie nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E tornando a queste quattro capitali che tu hai detto già in base dai musulmani, con tanti nomi, Mohammed, eccetera, eccetera, io ho ricordato mentre tu parlavi, sono andata durante la guerra dell'ex Yugoslavia, tra l'altro esattamente dieci anni dopo l'inizio delle apparizioni. Proprio il 24 giugno del 1981 sono iniziate le apparizioni a Mediugori, il 24 giugno del 1991 è iniziata quella guerra tragica, che comunque erano tutti contro tutti, etnie e religioni. È iniziata nel 1991 e definita nel 1995. Quello che a me ha colpito, perché andavo lì con gli aiuti umanitari in quegli anni, è conosciuto Don Crescio, che era un sacerdote proprio di Mostar. E lui ci diceva, ragazzi ascoltate, nel 1994, quindi parliamo di 23 anni fa, ci diceva che a Mostar c'erano due chiese, di cui una bombardata, e 200 minareti. 200 minareti finanziati dal mondo musulmano. E ci diceva, nel 1994, che l'Europa sarebbe stata invasa dai musulmani. Ora ci troviamo in quel momento che lui aveva anticipato. Quando lui ce lo diceva, ci sembravano cose strane, ecco. Quindi mi viene da pensare oggi, e ti faccio la domanda, se già un Don Crescio a Mostar, nel 1994, ci ha anticipato quello, è perché questo percorso è stato studiato a tavolino. Perché di fatto oggi non può essere smentito quello che lui aveva anticipato. Tu che cosa ne pensi di questo? Ma è la realtà che comprendono bene quelli che conoscono l'Islam, quelli che hanno subito sulla loro pelle le efferatezze dell'Islam. E sono proprio quei cristiani, non solo nell'area dei Balcani, ma anche nel sud del Mediterraneo, cristiani d'Oriente. Pensiamo al fatto che nel VII secolo le popolazioni a sud e a est del Mediterraneo erano al 98% cristiani, al 98% cristiani. Oggi sono solo al 3% cristiani. I cristiani sono scomparsi sulla sponda meridionale e orientale e orientale del Mediterraneo, non perché hanno fatto i cattivi, non perché si sono comportati male, ma perché sono stati invasi, hanno subito una violenza da parte di eserciti islamici che ha ritenuto che conquistare all'Islam fosse un imperativo. E tutto questo è accaduto in meno di 200 anni dopo la morte di Mahometto avvenuta nel 632. Così come in meno di 200 anni gli eserciti islamici invasero la Spagna e ci sono rimasti per otto secoli, invasero la Sicilia e ci sono rimasti per quasi quattro secoli. Non dobbiamo mai dimenticare che se non ci fossero state le vittorie degli eserciti cristiani a Poitiers nel 732, la reconquista in Spagna nel 1492, l'Epanto nel 1571 e a Vienna nel 1683, anche questa nostra sponda settentrionale del Mediterraneo, cioè l'Europa, sarebbe stata anch'essa sottomessa all'Islam. Ebbene, quello che non si è riusciti a fare in passato con le armi, con gli eserciti, oggi lo stanno facendo con la demografia, ma aggiungo attraverso anche il lassismo, il buonismo, il relativismo valoriale, il relativismo giuridico di una Europa che non solo ha dimenticato le proprie radici cristiane, ma si vergogna delle proprie radici cristiane ed è un'Europa che ormai si concepisce come una sorta di terra di nessuno e di fatto si è trasformata in una terra di conquista. Quindi con quello che hai detto adesso, non solo sta avvenendo quello che ha detto Don Crescio, ma anche quello che ha detto Riana Fallaci, che ci stanno conquistando col ventro delle loro donne, perché i ventri delle nostre donne sono diventati mortiferi per le vite dei nostri cittadini. Ma di questo parleremo fra poco, perché poi io voglio andare poi a toccare un argomento che mi sta sempre a cuore. Però prima voglio parlare di un'altra cosa. Ancora prima che avvenisse questa invasione di massa, io da donna, l'ho già detto in altre dirette, e non lo dico solo adesso perché ci sei tu, però è proprio una cosa che ho vissuto ed è una cosa che mi ha sempre turbata profondamente. Io ho un po' questa apertura verso l'altro, a me anche se non conosco le persone mi piace rivolgere un sorriso, un contatto, ecco, perché da contatto visivo per me inizia proprio un rapporto di reciprocità. Ecco, una cosa che mi ha sempre colpita è come, parlo da donna perché potrei capire un uomo che guarda una donna musulmana, per carità lo so, ma da donna a donna io in questi anni è proprio una cosa che si ripete costantemente. Non ho mai avuto, come dire, una risposta diversa. Ogni volta che rivolgo uno sguardo accogliente nei confronti di una donna musulmana, io non ricevo mai lo sguardo di risposta. Cioè io vedo proprio che non esisto ai loro occhi. Allora io mi domando, ma se l'integrazione dei mondi avviene proprio attraverso un primo contatto, che è quello visivo, se non riusciamo ad avere da loro questa visibilità ai loro occhi, che fiducia, che speranza possiamo avere di questo ipotetico amalgamento delle culture, se non riusciamo nemmeno a guardarci negli occhi. Tu cosa ne pensi? Sì, purtroppo viviamo in un'epoca storica dove c'è stata una profonda involuzione, anche sul piano del rapporto personale, sul piano dei costumi, sul piano della spiritualità. Io ho avuto la fortuna di nascere e di vivere i miei primi vent'anni in un paese, l'Egitto, quando c'era una realtà laica, quando la società era laica, le leggi che governavano il paese erano leggi laiche, dove c'era una maggiore tolleranza, un maggior rispetto anche tra persone che avevano fedi diverse. Per quanto la mia famiglia fosse insulmana, non ebbe alcuna esitazione, mia madre in particolare, che fu quella che mi accudì dopo la separazione è venuta dal marito, dal mio padre è venuta poco dopo la mia nascita, non ebbe alcuna remora a inserirmi in una scuola italiana cattolica al Cairo, dall'età di 4 anni. Io per 14 anni sono stato in collegio, prima dalle suore combognane e poi dai salesiani, sempre al Cairo, e c'era un rapporto positivo tra persone di fedi diverse. Poi man mano la situazione è degradata al punto che oggi ci si presenta e ci si connota sul piano religioso anziché su un piano personale. e nel momento in cui il musulmano si traduce, incarna ciò che Allah prescrive nel Corano, ciò che Maometto ha detto e ha fatto, facendo venire meno, facendo passare in secondo piano la propria umanità, mettendo in soffitta la ragione e il cuore, nel momento in cui si trasforma in una sorta di automa che in modo automatico e accritico incarna i dogmi della fede, noi non abbiamo più di fronte delle persone. Ecco perché oggi ci sono questi muri nel rapporto tra le persone che in passato non ci sono stati. Quindi il segreto sta nella laicità. Ecco perché noi dobbiamo affermare non soltanto di fronte a casa nostra ma anche dentro casa nostra un contesto di laicità dove i musulmani che scelgono di condividere questo nostro spazio fisico devono aver chiaro che questo è anche uno spazio giuridico, è anche uno spazio valoriale, è anche uno spazio spirituale e dove pertanto devono rispettare le leggi dello Stato, devono rispettare le regole su cui si fonda la civile convivenza e devono condividere quei valori che sostanziano la nostra civiltà. Bene, guarda veramente, oggi sei un dono, un dono immenso perché veramente ci stai dicendo con semplicità delle cose che per noi sono veramente difficili da capire perché appunto non essendo la nostra cultura e tutto quanto è un po' ostica come materia diciamo così. Ma adesso vado a toccare due spine che ho nel fianco. Boldrini Bonino. Allora noi diciamo quando uno non sa le cose, ma tu sai, boh non so, boh, sarà che Boldrini Bonino tutti e due iniziano per boh, non sanno quello che fanno, dico io. Allora cominciamo ad analizzare la Boldrini. La Boldrini praticamente, proprio cosa di questi giorni, sta invocando una legge sulla cittadinanza perché secondo quello che dice lei se questi stranieri che per lo più sono musulmani si sentono quindi inclusi nella nostra società diventano più partecipi e non solo quindi invoca lo ius sanguinus ma adesso sta invocando anche lo ius soli. Cosa ne pensi di questa cosa, come dire, cristianofobia al contrario che a lei nei nostri confronti? Cioè tutto quello che occidente lei lo allontana dici un po' cosa ne pensi di questa cosa. Ma a me sembra evidente che sia la presidente della Camera Boldrini sia l'ex ministro degli esteri Emma Bonino appartengono entrambe a quel fronte della finanza speculativa globalizzata o fanno comunque riferimento a quella realtà, ne promuovono le istanze a partire dalla omologazione dell'umanità, dalla promozione di un meticciato anche in senso antropologico, da intendersi come la condivisione di stessi tra virgolette valori e regole. La Boldrini si sta spendendo in prima persona da anni per favorire questa autoinvasione dell'Italia già da quando era la portavoce dell'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa del tema dei rifugiati e fu lei nel 2012 a promuovere un documento noto come la Carta di Roma che obbliga i giornalisti a non usare certi termini tra cui clandestino. Tu da giornalista ne sai qualcosa di queste cose quindi con altrettanta competenza ci puoi spiegare bene anche questa parte, dicci pure, quindi non possiamo dire clandestine. Esatto, eliminare un termine che rappresenta correttamente la realtà di chi entra nel paese sprovvisto di documenti ha finito per legittimare questa realtà. Oggi in Italia si dà per scontato che si può entrare in Italia sprovvisti di documenti, laddove in qualsiasi stato del mondo è reato. La Emma Bonino è un personaggio. Adesso della Emma Bonino faccio un approfondimento. Io tra l'altro ho visto, scusatemi se non saluto nessuno ma parliamo tanto, però ho visto Nicola Pasqualato che è doveroso salutarlo. E sappiamo perché. Ciao Nicola e grazie per il tuo impegno per favorire e promuovere questo incontro con gli amici del popolo e della famiglia. Lui che è un grande, come dire, attivista del popolo e della famiglia, quindi grazie Nicola. Emma Bonino, lì più che una spina è proprio una trave nel fianco, no? Questa donna che ha invocato per l'Italia 160.000 sbarchi annuali per 10 anni, per i prossimi 10 anni, per creare un equilibrio tra pensionati e forza lavoro, no? Ma io mi dico. Una Emma Bonino che chiede questo, cioè chiede 1.600.000 presenze nel territorio per dare un equilibrio, una stabilità economica, no? Alla nostra nazione. Ma proprio lei che ha fatto aborti a più non posso e grazie a lei dal 1978 al 2015, udite udite cari amici, ci sono stati ben 5.729.729 aborti, quindi altro che 1.600.000 da lei richiesto per equilibrare l'economia. Avremmo avuto un'economia fiorente con i 5.800.000 aborti perpetruati in questi anni e lei adesso fa pure la parte della consigliera nazionale di questi arrivi, di queste nuove persone che appunto ha ucciso, perché questo è omicidio, ha ucciso il popolo italiano e adesso invoca l'arrivo di questi clandestini. Ora, tra l'altro poi dicono anche che gli aborti sono diminuiti. Anche questa è una notizia falsa e tendenziosa, perché hanno detto che negli ultimi due anni appunto gli aborti sono diminuiti, però non hanno detto che sono diminuiti quelli per i VG, ma ce ne sono un numero non precisabile dovuti all'utilizzo della pastiglia del giorno prima, della pastiglia del giorno dopo, dei cinque giorni dopo e grazie anche al nostro ginecologo viale che abbiamo a Torino abbiamo anche la RU486. Quindi lui tra l'altro ha fatto la sua compagna elettorale nel PD con le tre scatole di RU486. Quindi assolutamente. Ma non solo parliamo di 5 milioni e 800 mila aborti in Italia, ma parliamo di 58 milioni all'anno nel mondo, quindi altro che forza lavoro da prendere in questi territori nuovi, avremmo avuto ognuno il nostro. Ma cosa ci dice ad esempio la Bonino, giusto per indorare la pillola? Che questi 8 milioni arrivati ultimamente di stranieri producono l'8% del PIL nel 2014 ci stiamo parlando, hanno pagato pensioni a 640 mila italiani, hanno dato addirittura a questi stranieri imprese e forza lavoro a noi italiani. Cioè noi dobbiamo ringraziare lei che ha ucciso 5 milioni e 800 persone, adesso italiane, ne sta facendo arrivare 1 milione e 600 mila prevalentemente musulmani che si denieranno di darci lavoro, grazie, grazie, la ringraziamo tutti. E non solo, adesso novità delle novità, è stata invitata, e qua la confusione anche un po' della chiesa, da un sacerdote il 26 luglio, che è la giornata mondiale del rifugiato, a parlare in una chiesa, avete per titolo la presentazione della campagna Ero straniero, l'umanità che fa bene, un nome per niente, come dire, che confonde proprio per niente, al fine di superare la bossi fini attraverso l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati. Meno male c'è l'amico Giorgio Celsi che farà un sit-in attraverso l'associazione Ora Elabora in difesa della vita, che dalle 11, sempre del 26 luglio, dalle 11 alle 16 davanti alla curia di Biella, si farà un sit-in giusto per dire ma ci siamo o ci facciamo, un attimo. Quindi tu cosa ne pensi di una Boldrini che si... Cioè io mi nasconderei, ma lei ancora va a parlare con presunzione e arroganza dicendo delle cose che proprio... Lei dovrebbe stare zitta, dopo aver ucciso il popolo italiano... La Bonino, scusami, dopo aver ucciso il popolo italiano, lei adesso vuole far arrivare in queste forze lavoro che tu ci stai descrivendo. Dici il tuo pensiero. Io ho sempre creduto e sempre crederò nella sacralità della vita, dal concepimento alla morte naturale. Quindi io sono assolutamente contrario all'avorto, sono contrario alla fecondazione artificiale, sono contrario all'eutanasia e difenderò sempre la vita. Per la verità c'è una strategia globale che vuole promuovere questa autoinvasione. Nel disegno di programmazione economica del 2016, quindi parliamo di un atto governativo dello Stato italiano, si precisa in un passaggio che l'Italia dovrebbe accogliere oltre 300.000 persone ogni anno, cioè non c'è nulla che accade per caso. Sia la Boldrini sia la Emma Bonino operano nel solco di una strategia che è dettata dalla grande finanza speculativa globalizzata. L'obiettivo è lo stesso. L'obiettivo è quello di scardinare lo Stato nazionale, è quello di abbattere la realtà dell'Italia e degli italiani come nazione e dissolverci in questo meticciato mondiale. Ed è una strategia che ha anche dei padri, come dire, dei padri fondatori, degli ideologi a partire dal conte Cudenauve Calerci che già nel 1924 in un suo testo dal titolo Idealismo pratico prevede che le popolazioni degli Stati Uniti d'Europa, lui è stato il pioniere del concetto degli Stati Uniti d'Europa, è stato il primo a usare questo termine, disse che le popolazioni degli Stati Uniti d'Europa non saranno le popolazioni autottone europee, ma una razza mista euro-asiatica negroide. Sono le sue parole, 1924. Il premio Calerci è stato attribuito ad Angela Merkel, è stato attribuito all'attuale presidente della Commissione Europea, il lussemburghese Jean-Claude Juncker. Noi abbiamo a che fare con questa strategia. La Boldrini, la Bonino, sono degli strumenti con cui si attuano queste strategie. Quindi se noi vogliamo scardinare queste strategie, più che, tra virgolette, prendercela con la Boldrini o con la Bonino, dobbiamo affrancarci da quelle logiche che oggi ci stanno sottomettendo alla dittatura finanziaria, alla dittatura informatica, alla dittatura relativista e alla dittatura immigrazionista. Dobbiamo liberarci di questa dittatura che ha in questa Unione Europea, nel Fondo Monetario Internazionale, nelle Nazioni Unite, i loro riferimenti. Prima ci liberiamo di questa dittatura e meglio sarà. Certo, ma infatti per tornare un po' a quel pensiero dei radical chic, perché fa fine e non impegna, che dicono che anche noi italiani siamo stati immigrati, certo, andando a lavorare duramente e attenendoci alle regole del luogo, non in alberghi pagati gratis, dove pochi guadagnano e gli altri subiscono, ma c'è anche da dire un'altra cosa. Proprio poi mi dicono, ma tu sei cattolica, dici queste cose, ma proprio perché sono cattolica, io sono per un'accoglienza sostenibile, sostenibile in termini economici di poter dare anche lavoro a queste persone, dignità a queste persone, ma allo stesso tempo sostenibile anche per la nostra cultura, perché noi non dobbiamo annientarci per accogliere l'altro. Chi prenderebbe un povero in casa propria e uscirebbe da casa propria, abbandonando la propria casa? No, noi possiamo accogliere i poveri in casa nostra, se abbiamo la forza per poter samare loro e i nostri figli, quindi quella è un'accoglienza sostenibile e non interesse per pochi. Allo stesso tempo mi dicono, ma tu sei cattolica, anche Giuseppe e Maria sono stati stranieri, tra l'altro nella tua terra in Egitto. Certo, ma io ricordo che Giuseppe lavorava e Maria accudiva il suo figlio e accudiva la casa, quindi era un'integrazione nel luogo senza portare tutto quello che sta portando, questo arrivo di massa mal gestito da tutti quanti. Allora, prima di farti delle domande, botta e risposta, perché adesso il tempo sta passando, voglio ancora farti due domande importanti e poi andiamo un po' più veloce, amici. Tra l'altro se volete fare un condividi, attivate le notifiche, vi ringraziamo, così anche altri amici possono seguirci, perché in particolare questo veramente è un momento importante di ascolto, perché si sono dette cose, ha detto, cose fondamentali per la nostra informazione. Allora, che cosa ci dici? Ah, tra l'altro, no, prima di farti la domanda voglio che... Perché sono stata un po' contattata da tanti amici. Dici, ah, ma tu adesso parli con Magdi Allam, ma lui era cristiano, adesso non è più cristiano. Ecco, spiegaci un attimo, tu non mi hai detto che non sei più cristiano, hai detto che hai sospeso, spiegaci un po' meglio tu la tua situazione attuale del momento, ma io ripeto, io faccio tra l'altro informazione inerente all'argomento trattato. L'argomento trattato oggi è il libro di Magdi, che è Maometto e il suo Allah. Stiamo analizzando questo arrivo di massa di uomini adulti musulmani nel nostro territorio, però effettivamente, proprio perché il mio spazio, il suo spazio dedicato a Maria, vorrei che chiarissi, a me l'hai già fatto prima, ma chiarissi anche ai nostri amici, la tua posizione nei riguardi della nostra fede attuale. E poi ti faccio altre due domande dopo. Volentieri, volentieri. In realtà io l'ho chiarita subito da quando nel 2013 ho esternato una mia grande preoccupazione. Ho chiarito che la mia fede in Gesù Cristo, il vero Dio, il vero uomo, nato, morto e risorto, quella c'è e quella rimane. Sono parallelamente perplesso sulle posizioni assunte dalla Chiesa, soprattutto dalla Chiesa di Papa Francesco, rispetto a due temi in particolare. Il primo tema è la legittimazione dell'Islam come religione, che è cosa diversa dal rapporto con i musulmani come persone. Il cristianesimo si fonda sull'amore nei confronti del prossimo, l'amore nei confronti del prossimo e il comandamento nuovo che ci ha portato Gesù. Quindi come cristiani siamo tenuti ad amare tutti, compresi i musulmani, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Ma cosa diversa è, partendo dal doveroso rispetto laico e amore cristiano nei confronti del prossimo, è legittimare la religione del prossimo, a prescindere dai suoi contenuti, a prescindere dal fatto che l'Islam non si concepisce come una religione diversa dall'ebraismo e dal cristianesimo, ma come la religione superiore che corregge l'ebraismo e il cristianesimo, che vengono condannate come miscredenze, come delle eresie. In particolare il cristianesimo viene condannato come politeismo, perché si ritiene che la fede nella Trinità sia politismo. Io pertanto non posso in alcun modo, oltretutto dopo essere stato musulmano per 56 anni, non posso in alcun modo accettare che oggi la Chiesa legittimi l'Islam come religione, mettendolo sullo stesso piano del cristianesimo, ogni qualvolta il Papa dice noi adoriamo lo stesso Dio, preghiamo lo stesso Dio, quando dice che tutte le religioni sono religioni di pace e di amore nei confronti del prossimo. La mia seconda perplessità è l'enfasi con cui Papa Francesco si rapporta sul tema della cosiddetta accoglienza, nel momento in cui la stragrande maggioranza di quelli che noi accogliamo sono prevalentemente musulmani, sono musulmani. Quindi l'accoglienza di fatto è lo strumento con cui si sta islamizzando demograficamente l'Europa. Io fatico anche a comprendere come la Chiesa non si renda conto che quella che viene oggi chiamata accoglienza in parallelo è diventato un business particolarmente lucroso, dove c'è una convergenza di interessi con realtà che dovrebbero essere, come dire, totalmente distanti dalla Chiesa. Mi riferisco al terrorismo islamico che controlla le sponde libiche da cui arrivano queste persone, alla criminalità organizzata straniera che gestisce il traffico in transito nel Mediterraneo, la criminalità organizzata italiana che controlla tutto il movimento di queste persone in Italia, di una rete che è sempre più fitta e capillare, di cooperative, di associazioni, di fondazioni, che stanno realizzando dei profitti che non hanno precedenti, oltretutto senza neppure l'obbligo della rendicontazione della loro attività. È tutto questo insieme che mi rende perplesso. Ecco, io ho voluto dare spazio alla tua voce in maniera che chiarissi un po' questa nebulosità che c'era sui motivi per cui in tanti hanno detto che tu ti sei tolto dalla fede cattolica, che poi di fatto così non è. Invece torniamo, un'altra domanda. Ma cosa ne pensi del dialogo che c'è stato fra Papa Francesco e Scalfaro? Dicono che non c'è abbastanza voce, quindi forse dobbiamo parlare con voce più alta. Volentieri, sì. Scalfari, Eugenio Scalfari, che è stato il mio direttore alla Repubblica. Io per 24 anni ho scritto sul quotidiano La Repubblica, dal 1979 fino al 2003, quando poi per cinque anni sono passato al Corriere della Sera, come dice direttore. Forse è un po' un destino che i papi individuino come dei loro referenti delle persone che non hanno nulla a che fare con la religione, con la fede. Benedetto XVI aveva come interlocutore Marcello Pera, su piano intellettuale, nell'ambito delle istituzioni italiane, Marcello Pera. Papa Francesco ha individuato Eugenio Scalfari. C'è una differenza fondamentale, però, che Marcello Pera è un filosofo. Marcello Pera è una persona, un intellettuale, che è a tal punto intellettualmente onesto da affermare che la sua libertà intellettuale si deve al cristianesimo. che senza il cristianesimo lui non potrebbe essere ciò che è. Quindi, pur non credendo in Dio, di fatto si comporta come se Dio ci fosse. Eugenio Scalfari è un'altra realtà, è un giornalista, è un semplice giornalista, anche se sicuramente è un giornalista affermato, che ha creato il quotidiano La Repubblica, nel 1970-76, insomma è stato un giornalista di successo, ma resta un giornalista che ha una levatura intellettuale diversa, e dove il contenuto del rapporto, mentre con Benedetto XVI e Marcello Pera era intellettuale, nel rapporto tra Papa Francesco ed Eugenio Scalfari è prettamente politico, e quindi il confronto sui temi della politica che ci sono in Italia e a livello mondiale. Quindi siamo scesi da un livello molto alto ad un livello più terra-terra. Ho capito. Invece per quanto riguarda Biffi e quello che ha detto sull'immigrazione incompatibile, cioè quella islamica, su questo argomento che cosa ci puoi dire? Io ho avuto l'onore veramente di conoscere e di incontrare più volte il Cardinale Giacomo Biffi, che è stato arcivescovo di Bologna. Mi sono intrattenuto con lui più volte quando era in pensione, in una residenza sulle colline bolognesi, e lui ebbe il coraggio nel 2000 di affermare che l'Italia avrebbe dovuto scegliere gli immigrati che risultino compatibili con le nostre leggi, con i nostri valori, con la nostra civiltà, evidenziando che con l'Islam c'è incompatibilità. Per essersi espresso con grande chiarezza, con grande onestà, lui fu attaccato da tutti. Fu attaccato sia dai mezzi di comunicazione di massa, ma è stato criticato anche all'interno stesso della Chiesa. Questo va detto. Oggi i fatti gli danno ragione, così come i fatti danno ragione a Doriana Fallaci. Bene, allora adesso facciamo un po' più domande e risposte veloci, ma proprio adesso andiamo proprio a fare approfondimento sulle differenze teologali fra cristianesimo e Islam, perché di questo noi abbiamo bisogno, proprio per iniziare a capire. Allora, cos'è il Corano per l'Islam? Il Corano è ciò che Gesù Cristo è per i cristiani. Il Corano è il Dio incartato. Mentre Gesù Cristo è il Dio incarnato, i musulmani ritengono che il Corano sostanzia Allah. È Allah che si manifesta attraverso questo testo, e che pertanto deve essere ottemperato letteralmente e integralmente. Bene. Ed è vero per l'Islam che tutta la verità è contenuta nel Corano ed il Corano è l'assoluto? È assolutamente vero, tenendo presente che il Corano in realtà è ciò che Maometto disse che di aver ricevuto è attraverso l'arcangelo Gabriele. Quindi Maometto è la figura centrale nell'Islam. Quindi di fatto si crede in Allah, ma ci si sottomette a Maometto. Ho capito. Quindi se tutto ciò che nel Corano è verità, hanno ragione gli integralisti islamici ad attenersi alla lettera? Assolutamente, devono attenersi alla lettera perché diversamente non sarebbero musulmani. Ecco, io poco prima di incontrarci ho letto un messaggio, un post, si dice, su un profilo Facebook di un gruppo che si definiscono fieri di essere musulmani dove riportano un detto di Maometto che è assolutamente veritiero in cui Maometto ordina di combattere e di uccidere gli ebrei fino all'ultimo ebreo. e lo fanno con grande onestà perché ciò che Maometto ha detto e ha fatto per i musulmani è ordine ma noi abbiamo il dovere di prendere posizione perché il nostro riferimento devono essere le nostre leggi, devono essere le nostre regole, i nostri valori e dobbiamo chiarire loro che in Italia e in Europa non è assolutamente ammissibile ordinare di combattere e di uccidere gli ebrei in quanto ebrei. Ecco, ricordiamoci che noi cattolici abbiamo i martiri, eh? Gesù si è fatto mettere in croce per portare al compimento la verità quindi abbiamo questo dovere di mantenere integra la verità, eh? E tornando invece all'Islam, secondo l'Islam chi ha creato il mondo? Ma è Allah è Allah che ha creato tutto in questo, diciamo, c'è una posizione che si avvicina a quella della Bibbia Maometto è stato nella prima fase della sua vita lui nacque alla Mecca nel 570 e fino alla rivelazione alla prima rivelazione le prime sure i primi capitoli del Corano a partire dalle 620 quando aveva 40 anni è stato profondamente influenzato sia da una realtà di ebraismo che era presente nella penisola arabica sia dalla realtà di un cristianesimo eretico era un cristianesimo che credeva nella sola natura umana di Gesù la cui lui ha attinto elementi diversi compreso quello della creazione del mondo Ancora, quale destinazione avranno le anime una volta deceduto il corpo secondo l'Islam? Ma l'Islam al riguardo è molto chiaro per l'Islam la salvezza è nell'Islam cioè solo chi ha creduto in Allah e in Maometto come messaggero di Allah si salverà ci sono dei versetti del Corano che parlano della salvezza anche dei cristiani degli ebrei dei sabei ma sono versetti precedenti a quelli in cui invece Maometto ispirato tra virgolette ovviamente per chi ci crede dall'Arcangelo Gabriele recependo per chi ci crede il messaggio di Allah affermò che la salvezza è solo nell'Islam Allora adesso ti farò una domanda però prima di farti la domanda rispolverò la memoria a noi cristiani nel senso che noi abbiamo una sola vita quando moriremo poi saremo destinati inferno, purgatorio o speriamo paradiso e che comunque Dio ci giudicherà in base a quello che noi avremo compiuto nella nostra vita quindi scegliere fra il bene e il male e comunque abbiamo il dovere di essere il sale della terra quindi anche qua in questo momento storico non dobbiamo essere quelli indifferenti sanno gli altri perché ognuno di noi dovrà rispondere delle proprie scelte delle proprie azioni e quindi chi non sarà il sale della terra sarà poi vomitato da Dio allora invece la domanda che voglio farti per quanto riguarda l'Islam quale destinazione avranno le anime una volta no 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 scusami quello l'ho già fatta tutto si compirà nell'al di là oppure ci saranno nuove forme di vita come reincarnazione o altro per voi musulmani per i musulmani no scusami per i musulmani sono un po' stanca no no tranquilla diciamo l'Islam non contempla la reincarnazione quindi crede nel nel giorno del giudizio in cui Allah radunerà di fronte a sé tutti gli uomini del passato e del presente e giudicherà l'intera umanità e come dire i meritevoli del paradiso andranno in paradiso quelli che saranno condannati all'inferno andranno all'inferno non c'è il purgatorio nell'Islam quindi c'è il paradiso o l'inferno addirittura le dodici vergini a chi si settantaquattro 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 non conosco queste cose ovviamente per i maschi per i maschi mentre per la donna siccome bisogna salvaguardare la come dire la la dignità della donna la donna in paradiso avrà un solo marito perché va salvaguardato l'onore della della donna e l'onore delle settantaquattro vergini le vergini sono invece a disposizione ma sai Maometto Maometto lui visse in un'epoca in cui non soltanto si è legittimata l'inferiorità antropologica della donna Maometto disse che la donna è manchevole sul piano dell'intelletto e sul piano della religione ma era anche uno schiavista Maometto ha legittimato la schiavitù è stato il più grande schiavista della sua della sua epoca quindi noi dobbiamo come dire contestualizzare ciò che Allah prescrive nel Corano in una cultura dove la donna era concepita come essere inferiore e dove la schiavitù era pienamente legittimata Guarda mi fai pensare alla figura di Maria no? la madre di Gesù no? dove lei ovviamente è sempre stata sottomessa nel senso una buona mamma di famiglia eccetera però come questa figura è stata non brutalmente usurpata come nel mondo dell'Isla no? ma mi viene anche da pensare questa è sempre una mia teoria comunque no? proprio perché il cuore di Maria trionferà no? e quindi sarà lei e lei che ha schiacciato la testa a Satana al demonio no? allora questa questa azione cruenta nei confronti della donna è un po' come un parallelismo no? di come il mondo musulmano rifiuta la donna e come invece Maria sarà la salvezza dell'umanità no? ci può essere un qualcosa che lega questi due modi opposti di vivere la donna secondo te tra il mondo musulmano e il mondo cristiano? ma io vorrei innanzitutto premettere un qualcosa che evidencio bene nel mio libro Maometto e il suo Allah che Maometto si è appropriato dei profeti menzionati sia nell'Antico Testamento sia anche di Gesù e di Maria ma li ha trasformati in profeti musulmani quindi quando il musulmano per manifestare l'apertura la presunta apertura dell'Islam al cristianesimo dice che anche l'Islam crede in Gesù e c'è addirittura un capitolo del Corano dedicato a Maria omette di dire che il Gesù coranico e la Maria del Corano sono profeti musulmani che condannano il cristianesimo e che riconoscono in Maometto il messaggero di Allah e che si prostrano solo ad Allah quindi come dire sono dei casi di omonimia non è in alcun modo il Gesù cristiano né è la Maria Vergine la Madonna del cristianesimo chiarito questo è del tutto evidente che la visuale delle donne nell'Islam è la visuale di un essere inferiore di un essere sottomesso che come dire a cui si riconoscono dei diritti ma da intendersi come il diritto a ricevere alimentazione il diritto a poter come dire avere ciò che serve per sopravvivere ma è una concezione di un essere inferiore ad esempio Allah nel Corano prescrive che la testimonianza della donna vale la metà della testimonianza dell'uomo che la donna eredita la metà di ciò che spetta all'uomo ecco perché anche la figura di Maria nell'Islam non potrebbe mai emergere come così come emerge in seno al Cattolicesimo specifichiamo il Cattolicesimo perché la devozione alla Vergine Maria è un qualcosa che appartiene in modo forte al Cattolicesimo bene proseguiamo con le domande il Corano ci rivela verità oppure sono dogmi definiti da Maumetto sono assolutamente dei dogmi affermati da Maumetto che si scontrano con la ragione cioè mentre il Cristianesimo che si fonda sulla fede in Gesù Cristo vero Dio e vero uomo dove pertanto c'è la dimensione trascendente della fede ma c'è anche la dimensione umana della ragione dove fede e ragione convivono in modo armonioso e dove noi possiamo usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede l'Islam invece essendo la fede nel Dio che si incarta nel Corano viene meno la dimensione della ragione ecco perché nell'Islam ci si deve limitare a ottemperare letteralmente e integralmente ciò che Allah prescrive nel Corano che null'altro ciò che Maometto dice che Allah gli avrebbe rivelato che viene trasposto poi nel Corano e i cui contenuti poi combaciano coincidono con quello che Maometto ha detto e ha fatto il Allah del Corano è un Dio alla carta è un Dio a richiesta che interviene su richiesta di Maometto per adempiere alla volontà di Maometto è un Dio sempre pronto ad assecondarlo in tutti i sensi compreso anche l'ambito puramente sessuali Maometto è stato un lussuroso è stato avuto sedici mogli contemporaneamente è riuscito ad averne undici contemporaneamente anche se poi la moglie prediletta è stata una bambina Aisha che lui sposò quando lui aveva cinquant'anni e lei aveva sei anni sei anni e consumò il matrimonio quando lei aveva nove anni ebbene in tutti questi passaggi Allah legittimò l'azione di Maometto ecco perché ho intitolato il mio libro Maometto è il suo Allah perché è un Dio personale è un Dio esclusivo di Maometto quindi diciamo è proprio l'opposto della nostra fede allora la donna viene sottomessa in maniera brutale mentre per noi invece la donna è vita e invece per quanto riguarda la lussuria di Maometto e noi invece la nostra fede ci insegna la purezza la castità addirittura prematrimoniale anche se si riesce una castità anche matrimoniale quindi proprio veramente siamo su poli opposti su questo ultimo punto che hai già strappolato in base alla domanda che ti volevo fare non so se vuoi aggiungere qualcosa fino a dove fino a quando un sedicente islamico può discostarsi dal Corano continuando a definirsi legittimamente e coerentemente seguace di Allah hai già guarda parlato prima di questo non so se vuoi definire ancora qualche dettaglio su questo punto qua o se va bene io sono stato musulmano per 56 anni e sono stato il musulmano che più di altri si è impegnato in Italia affinché potesse esserci un islam moderato poi dopo reiterate condanne e minacce di morte per la mia condanna del terrorismo islamico ho preso atto che i musulmani come persone possono essere moderati ma l'islam come religione non è moderato e ho compreso che il musulmano come persona può essere moderato solo se è laico solo se antepone la ragione e il cuore ad Allah e a Mahometto quindi noi possiamo dialogare e convivere con quei musulmani che antepongono la ragione e il cuore ad Allah e a Mahometto ma in modo molto più esplicito voglio dire a chi ci ascolta che noi non dobbiamo inseguire ciò che Allah prescrive nel Corano o ciò che ha detto e ha fatto Mahometto lo dobbiamo conoscere questo è fondamentale però dobbiamo essenzialmente e sostanzialmente dire a tutti coloro che scelgono di condividere questo nostro spazio fisico questa nostra casa comune che è l'Italia che possono farlo a condizione di rispettare le leggi laiche dello Stato di ottemperare le regole su cui si fonda la civile convivenza e di condividere quei valori che sostanziano la nostra civiltà a partire dalla sacralità della vita di tutti la pari dignità tra uomo e donna e la libertà di scelta compresa la libertà dei musulmani di abbandonare l'Islam di convertirsi al cristianesimo senza essere condannati a morte per apostasia tu mi anticipi le domande perché la domanda di adesso assistiamo stessa a parecchie conversioni dell'uomo occidentale all'Islam anche perché adesso sono molto anche confusi i giovani perché poi non avendo le regole perché alla fine i giovani cercano le regole non avendole più nella nostra realtà le vanno a cercare adesso in quell'altra che poi sono anche poverini accade con la stessa frequenza anche il contrario cioè di musulmani che si convertono al cristianesimo e se sì quali sono le ripercussioni anche perché non tutti poi possono avere la scorta armata quindi secondo te ma le conversioni all'Islam avvengono come hai ben detto perché si è alla ricerca di regole ma soprattutto perché si è alla ricerca di quel senso compiuto che fa sì che la vita abbia un senso quei valori che danno un senso alla vita e che la civiltà decadente dell'Europa ha perso un'Europa che si vergogna di ciò che noi siamo un'Europa che disconosce le proprie radici disconosce la propria fede cristiana disconosce la propria identità e i propri valori le proprie regole e che relativizza le proprie leggi accordando agli altri ciò che non è concesso agli stessi cittadini noi sappiamo tutto su chi si converte all'Islam lo può fare pubblicamente senza come dire subire alcunché ma non sappiamo la realtà inversa cioè dei musulmani che si convertono al cristianesimo perché nel caso dell'Islam sono condannati a morte in quanto apostati e anche in Europa subiscono delle vessazioni e talvolta pagano anche con la vita quindi la tendenza è quello di farlo in modo occulto in modo in modo segreto di non di non esporsi perché non vogliono mettere a repentaglio la propria vita e la vita dei propri familiari io considero questo deplorevole e mi auguro che questa Europa sia in grado di salvaguardare la libertà religiosa a 360 gradi che sia in grado di garantire la pari libertà anche ai musulmani che si convertono al cristianesimo o anche ad altre fedi o anche a nessuna fede senza dover temere per la propria vita ecco ma allora scusa adesso parliamo un attimino sui simboli no? un po' di questo mondo il velo se il velo che portano le donne è per rispetto ad Allah allora le chiedo qual è il segno di rispetto per gli uomini se invece è un segno di rispetto per i mariti come mai le donne in casa non lo portano quindi rispettano i mariti per la strada ma non dentro casa o a cosa serve quindi il velo spiegacelo meglio io ho vissuto per vent'anni i miei primi vent'anni in Egitto e non c'erano donne velate per le strade del Cairo la mia città è natale eppure erano donne musulmane era una società prevalentemente islamica ma era una società governata da leggi laiche questa è la differenza sostanziale il velo ha cominciato a comparire dopo la sconfitta degli eserciti arabi nella guerra del 5 giugno 1967 che ha segnato da un lato il declino del panarabismo che era un'ideologia che immaginava di fondere in un'unica nazione tutti i paesi arabofoni e dall'altro ha segnato la crescita del panislamismo che è un'ideologia che vuole sottomettere all'islam l'intera umanità quindi il velo più che un simbolo religioso è un simbolo ideologico dove il mettere il velo sottintende l'adesione ad una ideologia l'adesione ad un fronte al fronte di quelli che sono impegnati che sono mobilitati per islamizzare l'intera l'intera umanità e dove le donne finiscono per convincersi che il velo è una realtà che le nobiliterebbe che le renderebbe migliori che le renderebbe pure il problema è che quando nascono in un contesto dove tutte portano il velo si autoconvincono che il velo sia parte integrante della loro umanità noi non dobbiamo in alcun modo consentire che attraverso il velo le donne musulmane in Italia di fatto diventino una entità separata l'errore più grave commesso dall'Europa è la comunitarizzazione l'attribuire a persone che provengono dallo stesso paese o che condividono la stessa fede la prerogativa di auto amministrarsi sulla base di proprie regole o addirittura sulla base di proprie leggi come succede in Gran Bretagna dove ormai da 35 anni sono in vigore dei tribunali islamici che hanno già emesso decine di migliaia di sentenze in tema di diritto familiare di diritto patrimoniale basate sulla sharia sulla legge islamica nonostante il contrasto stridente fragrante che c'è tra la sharia e le leggi laiche dello Stato sei stanco? no no possiamo posso farti ancora alcune domande? va bene io vedo che continuano a seguirci tanto quindi anche loro sono sicura che non sono stanchi perché veramente è veramente importante approfondire questo argomento e poi quello che stiamo dicendo a voce qua dentro ci sarà l'ulteriore approfondimento ma poi chiuderemo parlando ancora del libro quindi tornando alla donna all'islam marito velo e tutto quanto in che cosa consiste il rispetto per il marito la donna rispetta il marito per rispettare Allah o considera proprio il marito Allah la donna nell'islam sulla base di quello che è stato l'esempio di Mahometto è sostanzialmente concepita come un oggetto sessuale a disposizione del marito anche in una delle sue ultime prediche prima della sua morte nel 632 Mahometto disse che la dannazione per la donna la si ha quando la donna rifiuta di soddisfare sessualmente il marito e aveva una valutazione talmente negativa della donna che in questo uno dei suoi ultimi sermoni disse che si appacciò diciamo in una visione mistica che lui ebbe all'inferno e vide che la gran parte di chi sta all'inferno sono donne sono donne quindi Mahometto considera le donne come dire come fisiologicamente dannate come fisiologicamente condannate ad andare all'inferno e la salvezza per la donna è nel sottomettersi innanzitutto sessualmente al marito in un contesto dove all'uomo è concesso di avere fino a quattro mogli contemporaneamente più tutte le schiave che può permettersi e dove il rapporto che regolamenta il rapporto tra marito e moglie non è un rapporto matrimoniale così come noi lo concepiamo in Europa perché il matrimonio nell'Islam non è né un sacramento religioso né una istituzione avvallata dallo Stato ma è un semplice contratto privatistico tra due famiglie ed è sufficiente che il marito dica per tre volte rivolgendosi alla moglie ti ripudio ti ripudio ti ripudio che lei cessa di essere sua moglie e un attimo dopo la può sostituire con un'altra con un'altra moglie questa è la realtà delle donne nell'Islam ed è una realtà totalmente incompatibile con le nostre leggi con le nostre regole e con i nostri valori quindi io veramente resto attonito di fronte alle donne musulmane che si presentano in televisione anche velate dicendo di sentirsi libere sono donne che non conoscono l'Islam e non conoscono Baometto e le invito a leggere il mio libro e allora invece ricordo ai cattolici che all'inferno ci va chi fa i peccati gravi cioè nei peccati gravi c'è dieci comandamenti e dieci dieci comandamenti e comunque non avrai altro Dio al di fuori di me ricordiamocelo bene quindi noi abbiamo la Trinità abbiamo il Dio uno e Trino quindi ricordiamoci che appunto quel peccato lì non è cioè contemplato se c'è il tradimento del coniuge non desiderare la donna ad altri quindi mi raccomando non facciamo confusione di peccati e invece proseguendo con le domande anche l'Islam come altre religioni è affiliata alla massoneria diciamo l'Islam come come religione è una realtà diciamo che va considerata nella sua specificità poi sicuramente ci sono esponenti islamici affiliati alla massoneria ci sono dei documenti che hanno attestato ad esempio che lo Shah di Persia era affiliato alla massoneria che l'allora presidente egiziano Sadat siamo negli anni settanta era affiliato alla massoneria ci sono anche altri altri nomi oggi quando guardiamo alla realtà di questo mondo dove è la grande finanza speculativa che impera e che detta legge non possiamo non tener conto che in questa realtà confluisce anche una realtà islamica quando parliamo di Arabia Saudita parliamo di Qatar parliamo di grande di grande finanza e pertanto non posso escludere che all'interno di una cupola che governa questo questo mondo ci sia anche la presenza di islamici ecco perché adesso mi sorge spontanea una domanda ma secondo te perché il piano di islamizzazione dell'occidente avviene proprio solo oggi e quali sono le forze invece che lo hanno respinto negli altri tentativi del passato no no c'è sempre stato da quando e quali sono state le forze che lo hanno riuscito a respingere e oggi perché non ci sono queste forze l'Europa si è salvata combattendo contro l'islam a Poitiers con la reconquista a Lepanto a Vienna senza queste vittorie militari anche l'Europa sarebbe già stata islamizzata il terrorismo islamico oggi non è altro che il proseguimento di una guerra di invasione che persiste da mille e quattrocento anni non dimentichiamo che in parallelo alla conquista della Spagna la conquista della Sicilia per venticinque anni a Bari c'è stato un emirato islamico i corsari che poi altro non erano che predoni islamici nell'830 e nell'846 per due volte invasero Roma e per due volte saccheggiarono la basilica di San Pietro e la basilica di San Paolo fuori le mura e fu proprio nell'847 che il Papa decise di costruire le mura del Vaticano le mura del Vaticano furono iniziate nell'847 per difendersi dai predoni islamici lo dico per quelli che oggi dicono no ma soprattutto che dicono che bisogna abbattere i muri i muri le mura del Vaticano sono state erette a difesa dello stato della chiesa e a difesa della cristianità se non ci fossero le mura del Vaticano lo stato della chiesa si dissolverebbe in due secondi facciamo bene attenzione le mura sono un portato di civiltà e i ponti tanto evocati i ponti i ponti non potrebbero esserci se non ci fossero i muri se ci sono solo se ci sono i muri ci possono essere i ponti ma i muri sono quelli che anche difendono la famiglia la casa la casa è come dire si sostanzia di mura che difendono il nucleo il nucleo familiare l'assenza di muri significherebbe la giungla significherebbe la legge del più forte la legge del predone noi invece dobbiamo volerci del bene dobbiamo salvaguardare la nostra famiglia dobbiamo salvaguardare la nostra casa comune dobbiamo salvaguardare la nostra fede e la nostra civiltà cristiana ma infatti il simbolo della famiglia è la casa adesso ci sforziamo brevemente su domande sul piano sociologico politico e poi concludiamo ok allora il tentato colpo di stato dell'anno scorso in Turchia qual è il suo significato nel scacchiere internazionale è un colpo di stato alquanto dubbio perché non si è mai visto un colpo di stato che viene sferrato in assenza della convergenza dell'accordo dei capi delle tre armi e in assenza anche dell'obiettivo dell'arresto immediato del presidente della Repubblica un colpo di stato che è fallito dopo poche ore e che è servito questa è la grande realtà a Erdogan sia per fare una pulga interna che non ha precedenti nella storia della Turchia sia per accelerare attraverso il cambio della Costituzione l'islamizzazione delle istituzioni di un paese che nacque nel 1924 con Kemal Ataturk come stato laico nella Costituzione della Repubblica della Turchia del 1924 la parola Islam non compare neppure una volta oggi Erdogan che io considero come l'uomo più pericoloso che c'è in Medio Oriente si sta islamizzando e si sta ponendo come il polo di riferimento dell'islamizzazione di tutto il Medio Oriente e anche della regione asiatica mamma li turchi mi verrebbe da dire ai 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 quali sono le forme di convivenza fra islam e cristianesimo nel mondo oggi noi dobbiamo innanzitutto parlare di convivenza tra persone tra persone perché la convivenza non è tra le religioni ma tra le persone e nel contestualizzare nel tempo e nello spazio le persone noi perveniamo alla comprensione che se ad esempio ci poniamo la domanda della possibilità o meno della convivenza infatti era la domanda successiva tra musulmani e cristiani in Italia la risposta non può essere che il dialogo e la convivenza possono esserci solo se da parte dei musulmani si rispettano le leggi dello stato italiano si ottemperano le regole della società italiana si condividono i valori della civiltà italiana quindi la convivenza non è una sorta di territorio neutro dove giorno dopo giorno si sommano le istanze di tutti quelli che arrivano per promuovere una nuova civiltà noi non siamo una landa deserta noi abbiamo una civiltà abbiamo delle radici abbiamo una fede abbiamo un'identità dei valori e su questa piattaforma che noi dobbiamo promuovere il dialogo e la convivenza il problema vero è che noi abbiamo dimenticato chi siamo e che oggi ci vergogniamo di chi siamo ecco perché ritengo che il problema vero non sia tanto l'arbitro l'arroganza e la violenza ma il problema vero sia la nostra ignoranza sia la nostra ingenuità sia la nostra pavidità sia la nostra paura la nostra sottomissione al condizionamento degli interessi materiali petrolio il gas l'accesso ai loro mercati i petrodollari i fondi i fondi sovrani e anche la collusione da parte di alcuni di chi ci governa abbiamo citato prima la Valdini la Bonini ma ci si potrebbero fare anche altri nomi mi viene da dire un detto popolare meglio pane e cipolla ma felici come dire meglio poco poveri ma sicuri a questo punto perché poi quello che mancherebbe è la sicurezza l'Italia l'Italia potrebbe essere in assoluto il primo paese al mondo per la qualità della vita noi abbiamo tutti i requisiti per vivere vivere bene siamo il paese più bello che c'è al mondo abbiamo il patrimonio culturale più cospicuo dell'umanità abbiamo uno straordinario patrimonio umano la creatività degli italiani ci è invidiata in tutto il mondo dobbiamo avere una cultura politica e una classe politica che amino gli italiani che vogliano il bene degli italiani infatti siamo mal governati ma e lo ripeto mal governati e il popolo della famiglia è nato proprio perché siamo stanchi di questa mala gestione fatta oltretutto con malizia perché metodicamente stanno distruggendo una nazione cioè loro vogliono distruggere una nazione allora noi attivisti del popolo della famiglia io sono un dirigente del popolo della famiglia abbiamo preso questo impegno nei confronti prima di tutto dei nostri figli anzi prima di tutto nei confronti di Dio poi dei nostri figli ma proprio del nostro popolo di difendere strenuamente la nostra nazione e il popolo della famiglia è nato per questo difendere i valori della nostra nazione di difendere la vita la vita dal concepimento fino alla morte naturale e la famiglia perché quel nucleo centrale quel luogo dove ci sono quelle mura di sicurezza della casa dove comunque si costruisce il futuro e il benessere non dico economico ma almeno di tranquillità sociale a cui aneliamo tutti quanti io condivido condivido apprezzo vi ringrazio e mi auguro che il popolo della famiglia possa crescere possa illuminare le menti fortificare gli animi perché abbiamo bisogno di affrancarci dal disorientamento che oggi purtroppo è dilagante abbiamo bisogno di riscattarci da una posizione dove si è prevalentemente gregari e diventare protagonisti delle nostre scelte e ritengo che una realtà sana come il popolo della famiglia può dare un contributo rilevante ecco mi viene proprio in mente subito un parallelismo movimento politico nuovo a difesa veramente l'ultimo baluardo veramente di difesa di questa veramente catastrofe che ci sta circondando il popolo della famiglia e il parallelismo è so che c'è comunque un partito islamico che si sta formando quindi quali saranno secondo te le prime rivendicazioni del nuovo partito islamico sia sul piano politico che su quello sociale se ciò avvenisse loro lo hanno detto con grande chiarezza bisogna prendere atto che chi vuole realmente promuovere l'islam e si attiene a ciò che Allah prescrive nel corano e a ciò che ha detto e ha fatto maometto poi si manifesta con grande onestà tutto ciò che è presente nell'islam è totalmente incompatibile con le nostre leggi quando si parla di donna per esempio quando si parla di poligamia quando si parla di diritto penale delle sanzioni corporali vigenti in seno alla sharia quando si parla di diritto della famiglia tutto questo evidenzia un profondo contrasto tra la sharia tra la legge islamica ma vorrei aggiungere che ad oggi e di questo purtroppo non se ne parla ma ad oggi l'islam non è una religione riconosciuta dallo stato italiano noi parliamo tanto di moschee parliamo tanto di imam di formazione degli imam di accordi tra il ministero dell'interno e le cosiddette associazioni islamiche ma tutto questo si porta avanti nonostante che ad oggi l'islam non è riconosciuto dallo stato l'articolo 8 della nostra costituzione prescrive due condizioni affinché le religioni possano beneficiare di pari libertà di fronte alla legge la prima è che l'ordinamento della religione non sia in contrasto con le leggi dello stato e la sharia è totalmente in contrasto con le leggi dello stato e la seconda è che la religione abbia stipulato un'intesa con lo stato l'islam non ha stipulato nessuna intesa con lo stato e anche questo è di per sé una sottomissione all'islam perché si concedono ai musulmani dei diritti e delle prerogative che dovrebbero essere conseguenti alla legittimazione dell'islam e non precedenti noi diamo loro qualcosa che potrebbero avere solo dopo il riconoscimento e anche qui c'è una grande confusione ma c'è soprattutto la sottomissione ideologica all'islam guarda la domanda che ti so per fare adesso va a toccare un argomento che mi fa particolarmente a cuore io sono nel popolo nel movimento in questo nuovo movimento popolo della famiglia per un unico motivo perché si può fare politica mettendo Dio al centro e secondo me è l'unico modo per fare politica perché comunque la nostra fede il cristianesimo ha dato come dire si è visto nei secoli che ha sempre portato vita prosperità perché mettendo la nostra fede ci insegna ad amare l'altro cioè attraverso l'amore di Dio quindi questo è l'unico motivo ma come mai si può definire così chiaramente un partito islamico e invece quando si parla di un partito cattolico bisogna dirlo così un po' tra le righe un po' chiaro questo chiaroscuro no? cioè io no perché chiaramente dico sono nel movimento perché si può fare politica in nome di Dio perché altrimenti non ci sarei ma perché appunto si può dire partito musulmano e non si può dire con altrettanta chiarezza partito cattolico secondo te? ma anche qui noi tocchiamo con mano il fatto che non solo ci vergogniamo di chi siamo ma non ci vogliamo più del bene io mi sono reso conto nel mio piccolo che dopo la mia conversione al cristianesimo nel 2008 con il dono immenso di ricevere il battesimo la cresima l'eucaristia dalle mani del Papa Benedetto XVI in San Pietro nella notte della veglia pasquale era il 22 marzo del 2008 mi resi conto che le stesse cose che scrivevo o che dicevo da musulmano e che andavano bene a tutti perché venivano considerate come espressione di una manifestazione libera di un intellettuale musulmano laico e liberale dette da cattolico esattamente le stesse cose non andavano più bene perché venivano considerate come espressione della manifestazione di un cattolico integralista eppure erano le stesse cose compresi che oggi in Italia è più facile essere apprezzati come musulmani che non come cattolici infatti e allora proprio in virtù di questo di questo apprezzamento tu come prevedi che sia l'influenza di un eventuale riconoscimento di un eventuale partito islamico in Italia sia nei confronti del popolo italiano sia nel sistema educativo pubblico italiano quindi cosa verrebbe insegnato ai nostri figli perché poi il nucleo centrale del nostro discorso è i nostri figli e il futuro dei nostri figli ma bisogna dire che ancora prima della nascita di un partito islamico sono le stesse istituzioni che stanno promuovendo una diffusa islamizzazione nel momento nel momento in cui si relativizza l'insegnamento religioso nelle scuole nel momento in cui si trasmette una versione dell'islam del tutto edulcorata e spiace a dirlo e lo dico con grande amarezza che anche da parte della chiesa nel momento in cui si afferma che islam cristianesimo e ebraismo adorerebbero lo stesso dio e sarebbero tutte in ugual modo delle religioni di pace nel momento in cui quando si deve inaugurare una moschee e oramai è diventato un rito è presente sia il sindaco ma sia anche il parroco o talvolta il vescovo della 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 proprio per legittimare la realtà dell'islam sul sul territorio tutto questo è un qualcosa che ci fa comprendere che l'islamizzazione è già in atto e poi non dimentichiamo mai l'aspetto demografico che è il nostro vero tallone ed Achille cioè noi oggi stiamo subendo un'accelerazione nell'islamizzazione proprio per l'aspetto demografico quando in un contesto di società italiana dove la fascia di anziani cresce sempre di più e dove invece la fascia giovanile si sostanzia sempre di più di giovani musulmani noi siamo a rischio siamo a rischio perché saranno loro a decidere il futuro ecco perché bisogna bloccare subito le frontiere bisogna chiudere i porti e bisogna aiutare le famiglie italiane ecco perché apprezzo l'iniziativa il messaggio del popolo della famiglia noi dobbiamo mettere le famiglie italiane nella condizione di generare figli italiani perché è attraverso i figli italiani che noi potremo tramandare la nostra fede e la nostra civiltà cristiana infatti non svendiamoci amici non svendiamoci allora ancora proprio di figli parliamo anche di figli con disabilità secondo te come vengono considerate le persone nate con disabilità nelle scuole islamiche e nella società islamica ma in in generale non c'è un'attenzione particolare per le persone le persone disabili non c'è il livello di sensibilità che c'è nelle nostre società dove il cristianesimo ha portato a concepire tutte le persone di pari di dignità e mi auguro che questo valore non venga non venga mai meno come purtroppo rischia di accadere anche considerando la vicenda a proposito di disabilità del piccolo Charlie Gard di dieci mesi che ha una disabilità una forte disabilità ma che è un essere vivente e dove stiamo assistendo ad un'atrocità dove dei medici e un magistrato e un giudice lo hanno condannato a morire e dove per fortuna c'è stata una mobilitazione da parte dell'opinione pubblica si è mosso sia all'ospedale il bambino Gesù che appartiene al Vaticano sia il presidente americano Trump e ci auguriamo che questo bambino abbia la possibilità di continuare a restare in vita perché la vita è comunque sacra se dovesse passare il principio che la persona disabile che la persona non produttiva debba essere eliminato introdurremmo una ideologia eutanasica che riesumerebbe il peggior nazismo che non più sulla base della affermazione della purezza della razza ma sulla base dell'affermazione della di una umanità produttiva è produttiva a basso costo produttiva a basso costo sia diritto o meno di vivere che cosa significa che arriveremo ad esempio a 70 anni 80 anni a 90 anni e diranno tu non servi più per la società sei solo un peso economico e quindi noi ti facciamo fuori noi dobbiamo combattere questa forma di eutanasia che a partire dal caso del piccolo Charlie Gardner si vorrebbe accreditare guarda ho visto che c'era la dottoressa Silvana De Mari che ti chiamava secondo me è uno scoop vogliamo sentirla la mettiamo in viva voce perché a questo punto scusa la chiami tu o la chiamo io la chiamo io così magari facciamo un dialogo a tre con la dottoressa Silvana De Mari io non vedo più qui la chiamo io però si vede si sente adesso la mettiamo in viva voce vediamo che cosa ha da dirci la dottoressa Silvana De Mari perché ci stava chiamando pronto Silvana grazie quindi vi ringrazio ringrazio moltissimo Magdi che come sempre è stato superattivo ci ha detto cose che può dirci solo lui possiamo anche scoprirle sui libri se siamo molto informati ma lui ce le può dire dal di dentro lui ce le può dire tra l'altro con una precisione con una cultura che non ha nessun altro grazie Silvana bravissima con tu dell'intervista allora guarda Silvana facciamo una cosa se io e Magdi abbiamo fatto scintille faremo una diretta io Magdi e te e faremo fuochi d'artificio quando vuoi ci stringeremo un po' davanti allo schermo ci stringeremo un po' ma ci staremo e guarda Silvana grazie onorata della tua telefonata dici Cristiano ma soprattutto Silvana dobbiamo organizzare un bell'incontro nella tua Torino per diffondere il messaggio che condividiamo da sempre ed è il messaggio della sacralità della vita della pari dignità tra uomo e donna e della libertà della libertà allora facciamo così diamo uno scoop faremo un incontro con Magdi e De Mari a Torino vi diremo la data breve un grandissimo abbraccio grazie Silvana ciao ciao Silvana grazie con tutto il cuore ciao 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 allora continuo le ultime domande abbiamo quasi finito perché oltretutto sono anche importanti queste allora perché l'Italia si discosta così palesemente dalle politiche di accoglienza di tutti gli altri paesi europei abbiamo proprio notizia recentissima Gentiloni anche lui non bastava Boldrini non bastavano gli altri pure Gentiloni che dice non accetto lezioni dai nostri vicini rivolgendosi al ministro ungherese che aveva consigliato all'Italia di chiudere i suoi porti per bloccare appunto i flussi migratori del Mediterraneo ecco dimmi come mai secondo te l'Italia proprio è così caparbiamente arroccata su questa su questa linea ma grazie alle confessioni chiamiamole così di Emma Bonino recentissime abbiamo scoperto che nel 2014 Matteo Renzi che all'epoca era capo del governo ha sottoscritto un accordo con l'Europa chiedendo che tutti quelli che fungono tra virgolette fungono perché in realtà siamo noi che incentiviamo questo esodo dalla costa libica arrivino tutti in Italia Emma Bonino ha detto chiaramente siamo noi che li vogliamo in Italia siamo noi che chiediamo che arrivino tutti quanti in Italia quindi c'è una strategia una strategia che individua nell'Italia come il principale punto di approdo di queste persone di cui in realtà poi non sappiamo bene chi siano sappiamo soltanto che sono prevalentemente di sesso maschile che hanno prevalentemente tra i 20 e 30 anni guarda caso è la fascia di età che si traduce nell'esplosione della fertilità maschile sappiamo che sono prevalentemente musulmani e ora sappiamo che sono qui non casualmente ma perché chi ci governa vuole che siano in Italia non sappiamo però chi sono veramente queste persone e temo che scopriremo tra non molto che sono guardando guardandoli fisicamente sono persone che la fame non l'hanno mai conosciuta nella loro vita sono tutti di sana e robusta costituzione alcuni sembrano dei palestrati scopriremo che sono l'avanguardia di un esercito islamico venuto sia per sostituirci etnicamente sia per conquistarci e sottometterci all'islam quindi mi auguro che chi ci governi sia illuminato dalla verità e che ad un certo punto comprenda che deve rispondere del proprio operato non ai poteri finanziari forti che li hanno messi nelle loro posizioni a partire da Mario Monti nel 2011 che è stato chi più di altri incarna la grande finanza speculativa e globalizzata ma devono rispondere del loro operato agli italiani che stanno subendo un crimine epocale l'Italia era uno stato ricco si sta trasformando in una popolazione sempre più povera e ora questa popolazione sempre più povera rischia di essere sovvertita e trasformata in un meticciato così come rischia di essere islamizzata sana e robusta costituzione a nessuno manca il cellulare brava a nessuno manca il cellulare e comunque il popolo italiano che ha lavorato nei secoli passati per costruire quel benessere dovuto al loro lavoro adesso quel benessere precedente è messo a servizio di questi finti poveri che stanno arrivando dobbiamo mobilitarci e dobbiamo insorgere per riscattare il nostro inalienabile diritto ad essere pienamente noi stessi dentro casa nostra noi non vogliamo fare le guerre a nessuno non vogliamo combattere i musulmani nel mondo ma abbiamo il sacrosanto diritto di salvaguardare il nostro inalienabile diritto ad essere pienamente noi stessi dentro casa nostra e a tramandare i nostri figli e i nostri nipoti per chi come me è già orgogliosamente nonno il diritto alla vita alla dignità e alla libertà guarda ha telefonato la De Mari l'ultima domanda era combinazione era in tema con lei come vengono considerate le persone di orientamento sessuale omo erotico e quindi non c'è forse una contraddizione fra la normalizzazione dell'omofilia con l'islamizzazione in Italia cioè in Italia ci vogliono far passare per buona l'omofilia allo stesso tempo vogliono islamizzarci ma l'islam per quel che mi risulta spiegacelo meglio tutto uccide gli omofili gli omofili quindi dici che senso ha? Noi per nostra fortuna siamo in uno stato di diritto che riconosce e salvaguarda il diritto alla vita di tutti a prescindere da quello che può essere la propria fede la propria proprio paese di origine il proprio orientamento sessuale l'islam invece condanna a morte gli omosessuali gli omosessuali vengono uccisi in quanto omosessuali questa è la differenza fondamentale è che bisogna che gli omosessuali la conoscono perché in generale ora tutti coloro che la pensano in modo diverso da me da Angela da Silvana De Mari dal popolo della famiglia devono essere consapevoli che se vogliono continuare a poter pensare in modo diverso ed è assolutamente legittimo devono difendere questa civiltà cristiana perché questa è l'unica civiltà al mondo che si fonda e che legittima la sacralità della vita di tutti senza alcuna eccezione la pari dignità tra le persone e la libertà di scelta quindi se volete continuare a poterla pensare in modo diverso bisogna tenerci stretti questa civiltà non dobbiamo promuovere lo scardinamento di questa civiltà non dobbiamo promuovere l'islamizzazione della nostra società quindi diciamo che il nostro sindaco Appendino 5 Stelle che sta pensando solo a due cose tra l'altro l'unica cosa pubblica che ha fatto Extra Grey Pride è finita nella catastrofe in piazza San Carlo lei è concentrata solo sui Gay Pride e sulla integrazione islamica oltre ad avere le idee confuse non sa bene appunto cosa fare perché sta sta spingendo due cose opposte quindi diciamo come sindaco io credo io credo che proprio Torino che è una città che ha registrato una decrescita sul piano della popolazione residente dovrebbe essere una realtà particolarmente attenta al tema della vita alla crescita della natalità dei torinesi della popolazione residente a Torino così come dobbiamo prendere atto che a Torino ci sono già delle realtà che sono state islamizzate penso a Portapalazzo siamo nel centro storico di Torino dove in un'area di un chilometro quadrato di fatto si è creato una zona extraterritoriale dove da una certa ora neppure i torinesi possono avventurarsi in un chilometro quadrato ci sono tre moschee dove non ci sono più famiglie torinesi noi dobbiamo invece salvaguardare quello che è la volontà l'aspettativa dei torinesi della maggioranza della popolazione di Torino questo è quello che dovrebbe fare un sindaco allora chiudiamoci Carlo Gitto che ha detto se vuole fare una domanda sentiamo Carlo Gitto poi chiamerò di Genova chiamerò Nicola Pasqualato perché è stato l'artefice e chiudiamo va bene ok vediamo perché voleva fare una domanda pronto dici Carlo vuoi fare una domanda Cristiano che ti saluta ciao Carlo certo sono contentissimo di avervi visto per sono contentissimo queste due ore mi sento moralmente un po' patrocinatore Angela mi aveva chiesto di poterti incontrare e fare questa diretta e io ti ringrazio il periodo era elettorale come sai noi qui a Genova e diciamo che avevo trascurato un po' questa richiesta Angela con il suo pronto atteggiamento l'ha realizzata tra l'altro ho segnalato dopo che la diretta era iniziata da poco a una nostra amica comune che si chiama Sara come fa di cognome Sara che c'era questa diretta e lei mi ha risposto lo guidi ah certo come no la mia cara amica certo e lei mi ha risposto lo sto seguendo lo sto seguendo bene bene diciamo che eravamo voi due lì e noi anche se una a Genova un'altra a Milano a seguirvi quindi tutta Italia ci sta seguendo benissimo perché l'argomento è importante e fondamentale allora ti salutiamo Carlo vuoi fare una domanda specifica? un abbraccio a tutte e due grazie grazie Carlo ciao allora ci stiamo caro vuoi fare una domanda specifica? boh rimbomba va benissimo allora io vorrei concludere a questo punto di nuovo con il tuo libro ma vorrei farti un'ultima domanda ma quando tu hai scritto questo libro guardate bene la copertina verde ma ho metto il suo Allah pensavi di fare un libro per i musulmani rivolto ai musulmani o rivolto ai cattolici rivolto all'islamo o rivolto all'occidente rivolto a tutti rivolto a tutti gli italiani è un libro che attualmente è in lingua italiana quindi rivolto a tutti gli italiani nella consapevolezza che si sa poco o nulla di Maometto pur essendo il personaggio chiave per conoscere la realtà dell'islam ed è un libro le cui fonti sono inoppugnabili l'autore vero del libro non è Magdi Cristiano Alla ma è Maometto troverete le parole di Maometto in questo libro quindi è un libro di documentazione in cui attraverso le parole di Maometto si comprende chi è stato questo personaggio nella sua manifestazione a 360 gradi il suo rapporto con i suoi concittadini della Mecca perché fu cacciato dalla Mecca nel 622 dopo aver tradito la sua stessa gente come ha voluto come dire appropriarsi di Allah che era uno dei 360 idoli che venivano adorati e alla Mecca trasformandolo nel suo dio personale il suo dio esclusivo la sua attività di predone del deserto le razzie nei confronti delle carovane lo sterminio degli ebrei nel 627 partecipò personalmente alla decapitazione di circa 900 ebrei della tribù dei Banu Kuraisa e poi il rapporto con le donne e quella che è stata poi la sua strategia l'islamizzazione dell'intera umanità noi tocchiamo con mano che se l'islam da 1400 anni è intrinsecamente violento e storicamente conflittuale è perché Maometto è stato violento il mio racconto di Maometto è basato sulle fonti ufficiali islamiche non c'è nulla di mio c'è di mio la valutazione ma è una valutazione che viene separata dal racconto dei fatti quindi è un libro oggettivo che io consiglio a tutti compresi gli stessi musulmani nella consapevolezza che la stragrande maggioranza dei musulmani non sa nulla di Maometto quindi allora io dico consiglio a tutti a me per prima di conoscere l'islam attraverso chi conosce l'islam non ascoltare quegli occidentali in particolare quei politici italiani che ci vogliono parlare di islam senza conoscerlo o comunque proponendo una parte di islam che non corrisponde alla verità ma giusto per indorare la pillola diciamo allora veramente io penso che sia molto molto veramente molto importante leggere questo libro Maometto e il suo Allah con questo vi salutiamo grazie vuoi dire una frase conclusiva che ti faccio subito dono del mio libro con una dedica personalizzata è un grande onore sicuramente dopo che leggerò questo libro parlerò sapendo cosa dirò veramente in merito alla materia conoscendola quindi a quel punto ma io a nome di tutti veramente a nome di tutti di tutta Italia ti ringrazio per questo tempo prezioso che ci hai dedicato e ringrazio in maniera particolare Nicola Pasqualato grazie Nicola che è veramente stato il tramite che ha permesso da dietro le quinte questo servizio che abbiamo dato all'Italia intera e mi auguro che sia solo il primo passo di un percorso comune per realizzare una missione una missione dove noi dobbiamo garantire ai nostri figli di poter continuare a vivere in una civiltà e in una fede cristiana e quindi a Torino avremo presto Magdi Cristiana Lam Silvana De Mari e in una città oramai confusa oramai destabilizzata oramai mal gestita dal sindaco Appendino faremo un po' di chiarezza sui temi principali di questo momento storico economico sociologico politico grazie a tutti arrivederci arrivederci ciao